Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di cinque uomini e due donne sospettati di aver commesso durante il lockdown del 2020 numerosi furti ai danni di chiese, scuole ed abitazioni del capoluogo nisseno, nonché di aver venduto la refurtiva. Tra gli oggetti rubati numerosi computer fondamentali per la didattica a distanza degli alunni e poi oggetti sacri destinati al culto monete dei distributori di bevande e monili in oro asportati dalle abitazioni colpite. A quattro degli indagati è stata applicata la misura della custodia in carcere ad uno gli arresti domiciliari e gli altri due l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso la questura di Caltarissetta. Tra gli arrestati una donna indiziata di aver fatto da palo durante alcuni dei furti e un'altra accusata di aver nascosto parte degli oggetti rubati. Durante l'attività di indagine sono state numerose le operazioni della polizia per neutralizzare i furti contestati agli indagati in alcune occasioni. Si è proceduto al loro arresto in flagranza in relazione a reati diversi da quelli contestati ora. Nel corso dell'attività di indagine uno dei furti più rilevanti è stato quello commesso alla chiesa di Sant'Agata. I presunti autori avrebbero danneggiato oggetti sacri e alcuni scrigni contenenti oggetti di valore. Nei prossimi giorni tutti gli indagati saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari.